E' terminato l'ultimo raduno per le selezioni della rappresentativa regionale Juniors Lombarda 2017. E' qua con noi Mr. Polastri mentre vediamo le fasi di allenamento. Chiediamoli un commento su questi raduni. Ciao a tutti, sono soddisfatto dei raduni che abbiamo effettuato, sia per la qualità dei ragazzi sia per la testa che hanno messo in queste selezioni. C'è stato un ottimo impegno e sicuramente dobbiamo stare attenti alla cura delle situazioni perché queste non sono state allenate, però se ci mettiamo la grinta, la voglia, il gruppo che ho visto possiamo andare a giocarcela con tutti. Grazie Mr. per l'intervista e ci vediamo in Puglio. Grazie a te e forza Lombardia! Ed ora passiamo a Marco, il portiere della rappresentativa. Mentre vediamo le fasi di allenamento chiediamoli un commento su questa e sua serata. E' stato un bel allenamento che è stato utile per provare gli schemi e le tecniche che adotteremo nel torneo delle regioni. E ci sarà utile per approcciare il torneo delle regioni con più sicurezza. Ti ringrazio Marco per l'intervista e ci vediamo in Puglia. Ciao Futsal World e Forza Lombardia!